Buongiorno per aver ritrovato sul canale, benvenuti al primo episodio di rispondo ai vostri commenti mese di giugno, giugno 2021. Andiamo a rispondere alle vostre domande. Ce ne sono diverse, interessanti e focalizzate sul modo del lavoro, quindi avrò piacere di rispondere a quelle. Ma prima di andare a queste domande che sono state postate sotto il video, rispondo ai commenti di maggio, e quindi stessa cosa. Se volete domande a cui io risponda in futuro, possibilmente commentate qua sotto perché faccio fatica ad andare a trovare i commenti nei video sparsi qua là perché sono talmente tanti, talmente tanti commenti che molti li perdo e alcuni proprio non li vedo. Io di solito apro i video, rispondo ai commenti del mese precedente, cerco le domande e poi rispondo. Ora, andiamo prima di rispondere alle vostre domande a raccontarvi una storiella di una persona che ha un canale YouTube chiamato Programming101101-Tutorials. Magari andate a guardare il suo canale, che ha 2000 iscritti, presumo abbia un po' di video interessanti, non l'ho visto onestamente, però lo metto sulla fiducia. Riporto la sua storia dove dice Al colloquio non mi hanno chiesto niente riguardo all'università, ma mi hanno solo chiesto dei progetti personali fatti durante l'università. Questo è un programmatore, se non l'avete capito. Progetti che ho fatto all'università che ho messo nel CV. Sei mesi dopo la laurea triennale ho iniziato a lavorare a Monaco di Baviera. 58.000 euro di RAL da full stack developer, più qualche bonus, sfanculando il lavoro italiano in apprendistato a 24.000 euro. Chi non paga recentemente non si merita il nostro tempo, che è ciò di più importante che abbiamo, essendo una risorsa limitata. L'avete sentito? Gli ho anche chiesto, gli ho offerto anche di intervistarlo sul mio canale, per ora non vuole, ma lo faremo in futuro. Questa, a prescindere dai 58.000, anche se fossero stati 40, 45, sempre meglio delle briciole che vi danno, che ci vogliono dare in Italia, alle condizioni poi che ci danno. Perché io dico, se ci offrissero 24.000 e vivessimo a Valencia, vivessimo alle Canarie, si lavorasse poco, no? Si finissi a lavorare alle 5.000 e la vita costasse relativamente poco, perché no? Ma visto che poi vi danno 24.000, 21.000, 20.000 euro e vi fanno lavorare come dei cani, non vi insegnano niente nella maggior parte dei casi. Ragazzi, fate le valigie, via. Ma a prescindere dall'andare all'estero, che è sempre un consiglio che io do, visto anche il nome del canale, dovete finirla con l'università, con i voti dell'università, dovete finirla, dovete scappare il prima possibile. L'università è uno scam, è un posto dove perderete mesi e anni di vita e non avrete nessun ritorno dal prendere un voto maggiore. Dovete finire il prima possibile, imparare le cose importanti, crearvi la famosa forma mentis, perché tanto non imparate a lavorare, e poi andare a lavorare, basta. Basta con questi voti. E chi vi dice il contrario, qualsiasi reclutatore, qualsiasi professore che vi dicono che dovete prendere 100, 105, 110, andateli a cagare. Non hanno mai lavorato, oppure lavorano in un ambiente marcio e hanno accettato di sottostare a quel sistema. Buona, questo era l'intro. Chiudiamo l'intro, poi abbiamo un secondo commentino e poi andiamo alle domande. Rond99 dice, l'Ambrenedetto è tornato con Big Luke, hai visto? E cazzo, queste non potevano rispondere a un commento del genere. L'Ambrenedetto, poverino, lui metteva i link, aiutatemi, mandatemi il bonifico, Paypal, post per Evolution, insomma, fa fatica l'Ambrenedetto. Big Luke deve avergli offerto un bel assegnino, gli avrà staccato un bel assegno per fare due di questi video di sponsorizzazione. Quindi, che dire, povero l'Ambrenedetto, mi dispiace per lui, mi fa un po' pena, un po' tristezza, visto che si raccontava sempre come questo uomo alfa, questo uomo con i suoi principi, le sue idee, eccetera, e poi va a fare la carità da Big Luke, se si è svenduto veramente per quattro denari. Andiamo con Filippo Piombino, una domanda seria, anche abbastanza semplice. Il voto della maturità è importante nel mondo del lavoro? Ok, se sei un troll, ben fatto, mi hai colpito, ho risposto. Se non lo sei ed è una domanda ingenua, la risposta è semplice. No. Forse il voto dell'università serve, a parte quella risorsa umana che mi aveva commentato il video, e io gli ho risposto nel video di maggio, dove dice che il voto di maturità serve per i concorsi pubblici, a parte questo, che potrebbe essere in certi casi, bisogna avere almeno 70, che non è che ci voglia, chissà quale mente, per avere 70 su 100. Magari serve all'università, se volete studiare medicina, magari dovete avere un voto abbastanza alto, vi aiuta in quei casi, per quei concorsi universitari, quelle cose a numero chiuso, ma in generale non serve proprio un cazzo il voto dell'università. Serve a voi il voto della maturità. Siete voi che dovete aver studiato per voi. Poi vi danno 70, 80, 90, cambia poco. Andiamo avanti. Simone G. Jacopo, grandi notizie a confermare il fatto che non sono pro Italia, a distanza di qualche settimana ho firmato un contratto per l'estero e non ci ho pensato due volte, un sogno che sia vero, inizierò quest'estate, spero vada tutto bene. Comunque continua così, te ringrazio per i contenuti, bla bla bla, grazie per i ringraziamenti. E dice non avrò bisogno di prendere l'aero perché non me ne vado troppo distante. Quindi o te ne vai in Baviera o te ne vai in Svizzera. Bravo, good luck, complimenti. Ora, domanda. Ah no, questa non è una domanda. Questa è una critica. Questo è Camillo Perri. Mi chiedo senza polemiche, soprattutto senza giudicare nessuno, come mai uno che decide di andare via dal proprio paese? Punto. Vabbè, magari questo è il T9, il T10, quello che è della Stiera. Poi fai i video parlando mai del proprio paese come fosse un pensiero fisso. Te ne sei andato, dovresti pensare di più al posto in cui vi è adesso e non all'Italia. No, caro Camillo, non funziona così. Il fatto che io me ne sono andato è proprio dovuto al fatto che il mio paese non funziona e fa schifo, e fa sempre più schifo. E questa cosa me la porterò dietro finché crepo, perché se anche dovessi vivere in Inghilterra fino alla mia morte, saprò sempre che ce l'ho andato perché il mio paese non funzionava. E questa è la croce di qualsiasi persona che emigra all'estero. E dovrò fare video, dovrò parlarne. Finché l'Italia non si risolleverà, spoiler mai, io avrò sempre questa cosa che mi brucia. E sarebbe ipocrita dire che non ce l'ho. E sarebbe anche da mettersi la testa nella sabbia per dire che le cose vanno bene. Se poi, nell'evidenziare i problemi dell'Italia, e dove è possibile farvi vedere che ci sono paesi dove questi problemi sono risolti e le cose funzionano un po' meglio, convinco qualcuno ad andarsene e quindi a trovare una vita migliore, perché chi va all'estero quasi sempre trova soluzioni migliori, sono soddisfatto ho raggiunto l'obiettivo del mio canale e della mia divulgazione informativa. Quindi non rosicate ragazzi se parlo male dell'Italia. Mi avete fatto andare via voi. Se fossi rimasto lì, se non avesse nulla di cui lamentarmi, non lo farei. Non possiamo far finta che i problemi non esistano. Specialmente quando i problemi affliggono i giovani, perché a me scoccia che persone di 15, 20, 25, 30 anni partano già senza futuro, senza speranze, partano già fottuti, rasi al zero dall'inizio. Questo non va bene. Siete giovani, avete 20 anni, dovete ambire cose esagerate, avere dei sogni veramente grossi, che poi tutto è relativo, perché c'è chi sogna di essere il CEO di Amazon e chi sogna di guadagnare 2.000 euro al mese e di andare a pescare. Quindi non è quello che importa, ma non potete essere azzoppati fin dall'inizio, non possono segarvi le gambe, non possono dirvi quella minchiata che dicono sempre e ma dovete accontentarvi e non dovete essere troppo ambiziosi. Questa l'ho sentita sempre. Non dovete sperare di avere chissà che. Prendete quello che vi danno e ringraziate. Prendete i vostri 900, 1200, 1500 euro e ringraziate. Ma che cazzo è? Se ho 50 anni e sono verso la seconda parte della mia vita è un conto. Ma se ho 20 anni e ho appena iniziato, oltretutto ho studiato, mi sono fatto il culo sui libri, vorrei anche avere qualcosa indietro, vorrei sognare un futuro migliore, non un futuro peggiore. E questo non va bene, capito? Il mindset, il famoso mindset che è sbagliato, che uccide i giovani. Andiamo avanti. Sala Maghi Ciao Iacopo, bel forma. Con io così ti volevo chiedere Vorrei ottenere la certificazione Java di Oracle invece di continuare a studiare materie che non mi piacciono all'università e perdere tempo. Ne ho già perso. Ho già perso 4 anni senza laurearmi e mi mancano più della metà delle materie. Pensi che le certificazioni aiutino a trovare lavoro anche senza laurea nel mondo del software? A me piace programmare, ma non mi piace l'università. Cosa mi consigli? Mi potresti rispondere al prossimo. E sa, da quello che dici, l'università è meglio mollarla perché se in 4 anni hai fatto metà degli esami impiegherai altri 2 o 3 per finirla e perderai tempo. Se la cosa positiva è che mi dici che ti piace programmare, ti piace smanettare e quindi sei pronto a entrare nel mondo del lavoro. Certificazioni Vai, falle sicuramente un'ottima idea falle, fai dei corsi e consiglio che ti do è fai dei progetti da solo sviluppa un applicativo un sito web una web application un qualcosa che ti possa interessare ti possa piacere e che sia rivendibile nel mondo del lavoro. Includilo nel tuo CV descrivi questi progetti che hai fatto magari puoi applaudali su un sito internet dove sono facilmente reperibili e presentabili e poi manda le tue candidature in bocca al lupo. Questo è il mio consiglio. Danix99 Ciao Jacopo, sto cominciando un percorso da sistemista e al contempo frequentando la magistrale grazie agli orari flessibili che entrambi gli impegni mi consentono. Siccome il Sistemint si dà appare un jack of all trades master of none consigli di specializzarsi in una branca e diventare network cloud cyber security engineering o va bene anche sysadmin ok Danix hai colpito nel segno se già ti rendi conto di essere troppo generico troppo vago nelle tue conoscenze non essere abbastanza specifico e preciso colpisce appunto un argomento importante che è quello che bisogna specializzarsi in qualcosa specialmente quando si è persone tecniche come te che tu sei un tecnico informatico al momento un sysadmin è necessario che tu scelga a un certo punto un percorso che può essere come hai detto networking cloud engineering security o potrebbe anche essere server potrebbe essere però ovviamente cloud server si possono andare a braccetto sysadmin è un po' generico scegli la cosa che ti piace è facile dirti cloud se domani ti fai una certificazione cloud cominci a studiare a smanettare su cloud cavolo ti verranno sotto la porta avrai la fila di persone che ti vorranno assumere security è la stessa cosa il problema della security è che la security spesso per entrare nella security o comunque avere un bagaglio di conoscenze sufficienti a rivendersi spesso è necessario un po' di esperienza sul campo diversi anni di magari networking o di sistemista da sistemista oppure da software developer la sicurezza è un byproduct della tua esperienza da informatico in un determinato settore e a un certo punto uno su quel settore va a creare le skill specifiche della sicurezza però diventare un esperto di sicurezza senza aver fatto prima magari il sistemista o il network engineer è difficile è tosta anche se le aziende assumono junior analyst junior security analyst eccetera quindi ti direi sì scegline una se fosse se fosse il mio gusto personale probabilmente io andrei su cloud engineer andrei su quello perché cloud poi è talmente facile da imparare c'hai amazon cloud c'hai azure di microsoft c'hai anche google cloud in ordine io partirei da amazon mi farei tutte le loro certificazioni e poi voglio vedere se non trovi lavoro quindi vai sceglitene una e ovviamente deve piacere deve essere qualcosa che ti attiri poi Filippo Piombino che mi sembra ci aveva già fatto una domanda dice sto per terminare la triennale in informatica e vorrei specializzarmi in cyber security da che certificazioni mi consigli di iniziare ok vedi ci riattacchiamo a quello che ho detto non dico che è impossibile iniziare senza esperienza già maturata nell'ambito informatico generico tra virgolette per lavorare nella sicurezza si può iniziare anche da neolaureati i miei consigli sono fatti quella che ho fatto anch'io qualche settimana fa comptia security plus vai a guardare anche il mio video dove spiego come l'esame come funziona comincia a farti quello che è una bella una bella mazzata ci impiegherai qualche settimana un paio di mesi forse a preparare a dare l'esame però ti darà intanto una visione di insieme della sicurezza e dello stato delle cose e poi da lì se ti senti veramente nerd veramente tecnico veramente smanettone ci sono una maria di certificazioni tecniche a partire dal CEH Certified Ethical Hacker poi andare a OSPF che dovrebbe essere Offensive Security poi c'hai altre robe legate al Penetration Testing e al attaccare le reti attaccare i sistemi e cercare di spoilerare exploitare le vulnerability eccetera quindi se poi vuoi diventare più tecnico più smanettone ce ne hai miliardi di certificazioni e te le puoi cercare tranquillamente su Google comunque parti da Security Plus e mettita sul curriculum che è una buona certificazione poi Bay Vlogs dice ciao ti volevo chiedere una cosa per favore toglimi sto dubbio ma Inghilterra per fare il passaggio di proprietà auto basta solo nome e cognome e indirizzo di casa è facile così non sono controllati chissà quanta gente avrà comprato delle auto con nomi falsi oppure vere di altre persone che esistono anche per l'assicurazione stessa cosa non funziona così in effetti da italiano tu pensi subito allora è possibile truffare il sistema eccetera non funziona così per diversi motivi perché come fai a vendere un'auto falsa al nome di qualcun altro prima di tutto se tu mi rubi la macchina e vuoi venderla a qualcuno cioè mi rubi la macchina la porti via e poi la metti in vendita arriva qualcuno vuole comprare nel momento in cui vuoi venderla ti serve il codice del libretto V5C che io possiedo o che tengo in casa o che ho archiviato che non lo lascio mai in macchina non si lascia in macchina il libretto dell'auto in Inghilterra e senza quel codice tu non puoi fare il passaggio di proprietà e quindi già quello ti impedisce di vendere una macchina rubata per quanto riguarda le assicurazioni come fai a fare un'assicurazione falsa perché ci sono mille controlli incrociati e poi in Inghilterra qua la polizia le telecamere che sono in giro controllano sempre le plate vedono se l'auto è assicurata e chi è il proprietario incrociano molto i dati non funziona così no non ci sono tutte queste truffe sicuramente ci saranno quelli che rubano le macchine se tolgono la targa e in qualche modo magari le reimmatricolano qualche volta colonano le targhe di qualcuno però sono pochi questi non ci sono tutti questi crimini è un sistema che funziona c'è da sempre e gli inglesi non sono stupidi quando si tratta di soldi di tassare le persone sono molto bravi a creare sistemi semplici user friendly minima burocrazia prova di stupido incassano i soldi dei cittadini e comunque mantengono un sistema olivato efficiente ti dico di recente mi sono liberato di una macchina e avevo già pagato la road taxi il bollo in anticipo per 12 mesi l'ho usata solo mai tre settimane di quei 12 mesi ho mandato sul sito ho compilato i dati dicendo che la macchina non era più mia che me ne ero liberato ho chiesto il refund del bollo e loro dopo due giorni mi hanno mandato l'assegno coi soldi del bollo eccetera senza probabilmente aver fatto neanche il controllo intracciato loro cosa avranno detto se tu mi dichiari il falso tanto poi quei soldi te li vengo e me li ridai indietro e se anche mi vuoi truffare poi la paghi quindi sulla fiducia probabilmente me li hanno mandati poi hanno fatto i loro controlli e mi hanno mandato i documenti ufficiali non è così facile fregare lascia perdere andiamo avanti con questa è l'ultima domanda poi siamo arrivati quasi a 20 minuti con Karim Elbela che dice ho 21 anni studio ingegneria ambientale a Pavia ma l'anno prossimo mi trasferirò al Poli di Milano perché mi è troppo lontano a Pavia anche se è molto bella mi dici che bisogna finire il prima possibile a me piacerebbe lavorare nell'ambientale anche la facoltà di geologia offre molti sbocchi simili alla mia facoltà ma rimanendo qua in Italia io geologo prenderei pesci in faccia te lo confermo perché ho un amico geologo che oltretutto lavora in una grandissima azienda che si occupa di petrolio eccetera avrai capito qual è e fa fatica a lavorare eccetera e lo pagano una misera poverino quindi sì in effetti geologia in Italia immagino che sia un disastro è meglio continuare ingegnere ambientale impiegando più tempo e fatica o fare geologia punto di domanda in ogni caso l'obiettivo finale sarebbe andare all'estero possibilmente in nord Europa geologia mi frena solo perché nel caso non riuscissi ad andare all'estero qui in Italia è proprio dura ma allo stesso tempo corsi più interessanti e meno analitici di ingegneria so che non è per niente il mio settore ma almeno saprai cosa dirmi grazie che dire io ti direi da quello che mi hai descritto mi direi che ingegneria non fa per te non ti interessa l'aspetto analitico l'aspetto matematico l'aspetto ingegneristico è inutile che ti ti batti come si dice ti dai la scopa in testa ti martelli ti autoflagelli insomma ti torturi non fare ingegneria ambientale finisci geologia e poi nel momento in cui non riuscirai se non dovessi trovare il percorso che vuoi in Italia vai all'estero tanto sei già predisposto ad andare all'estero quindi all'estero lavoro in Inghilterra l'altro giorno ero da un mio amico mi ha raccontato che il suo inquilino il suo lavoro è andare a bucare il terreno nei campi nelle foreste nelle proprietà private eccetera e fare le analisi del terreno le analisi del suolo eccetera e quindi lui probabilmente è un geologo e lo fa qua in Inghilterra e lavora bene si trova bene l'ha fatto anche in giro per il mondo quindi geologia mi sembra che sia la tua passione il tuo interesse punta a quello anche perché se poi fai ingegneria ambientale non pensare che da ingegnere ambientale troverai lavoro in Italia molto più di quanto lo troverebbe un geologo il fatto è che poi rischi di finire a fare cose più da ingegnere più matematici fare più di analisi di un certo tipo che da geologo e non ti piacerebbe finiresti a fare qualcosa che non è il tuo non fa il caso tuo quindi fai fai geologia finisci velocemente studia informati sulle opportunità di lavoro e se necessario fai le valigie e non penso te ne pentirai con questo chiudiamo il video rispondo ai commenti di chi ha scritto nel video dei commenti e adesso mi devo registrare il secondo con le altre domande sparse qua e là grazie per avermi seguito take it easy ciao ciao